La tradizionale e consueta domenica sportiva è cosparsa da sgomento e preoccupazione per lo sciame sismico che rimette in ginocchio le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. L'attenzione e la cronaca domenicale sono rivolte agli eventi segnati dal terremoto delle ore 7.40 della ultima domenica di ottobre che si presenta soleggiata allo stadio Guido Angelini. Inizia veemente la pressione degli ospiti che manifestano una impostazione offensiva puntuale ed aggressiva tale da mettere in evidente difficoltà i locali che si lasciano sorprendere dalla veloce impostazione del gioco. Ridolfi in velocità intuisce lo spazio per penetrare al quinto la difesa neroverde che si oppone con l'estremo ronchi nel tentativo di agguantare la sfera ma la dinamica dell'intervento difensivo è giudicata fallosa dal direttore di gara. Costantino pronto a calciare e la Vispesaro si porta in vantaggio. La prevalenza territoriale dei marchigiani è molto netta e gli abruzzesi a stento prendono l'iniziativa supportata dall'impegno che non sempre fa rima con la razionalità. Al diciannovesimo fallo di reazione con un colpo proibito di Conte su Botticini si consultano l'arbitro di Giovanni ed il primo assistente e di comune accordo decidono per l'espulsione del Bianco Rosso. Il Chieti cerca di ribaltare il ruolo. Gli avversari prudentemente indietreggiano per poi ripartire coralmente e in velocità al ventunesimo si ripropongono con Ridolfi. La squadra di Mariani profitta di un attimo di cedimento della Vis e guadagna un calcio di punizione pensato e manovrato che non produce effetti determinanti. Al trentaseesimo si infortuna il nero-verde Spina sostituito da Russo. La consueta imprecisione offensiva, la fatica a lanciare gli esterni creano i presupposti per subire la seconda rete. Ancora Ridolfi che perfeziona la netta occasione per Costantino convinto e preciso nel gonfiare la rete. Sul cotto l'acqua bollita. Il Chieti è costretto a sostituire un altro calciatore si stira Zeetti e spazio per il nuovo arrivato, Biondo. La curiosità e l'attenzione si sposta sulle notizie dello sciame sismico, in atto, quando il direttore di gara decreta la fine del primo tempo. Alcune partite sui campi marchigiani non si sono disputate e nel centro teatino continuano i sopralluoghi, negli edifici e nelle strutture di abituale frequentazione e aggregazione. Nella ripresa i nero-verdi iniziano nelle evidenziarie buone cose, al terzo Copponi ci prova dalla distanza. Poi, un minuto dopo, il centrale Trozzo calibra una bella botta con Molinaro che si oppone autorevolmente. Mariani opera il terzo cambio, richiama il macchinoso Copponi confidando nella velocità di esecuzione del brevilineo Faccini. Ma i movimenti offensivi latitano e favoriscono l'organizzazione del gioco degli ospiti che in dieci gestiscono la gara senza alcuna preoccupazione e astutamente, al ventesimo, infilano in contropiede l'ingenua retroguardia teatina che consegna a Costantino la tripletta. La rappresentanza marchigiana presente nella curva ospite pregusta il successo. La Vispesaro non abbassa la concentrazione. Copponi al ventisesimo trova lo spazio per centrare la porta di Molinaro, senza fortuna, che arriva sui piedi di Falomi, che esalta i riflessi elastici di Ronchi. Gli spazi non sono più utili e aggredibili per i neroverdi perché i biancorossi amministrano, prevengono e confezionano la netta vittoria sul Chieti. Sapevamo della difficoltà, quello che chiede ai miei ragazzi è maturità. Io voglio vedere chi dei miei ragazzi ha la voglia, la fame e che non ha distrazioni, vuol fare questo di mestiere. Io voglio questo. Gli ho detto chiaro e tondo, non mi interessa nient'altro. Io voglio vedere dei giocatori che hanno fame. Ed era la cosa principale, che vogliono migliorarsi di volta in volta, che vogliono migliorare le loro prestazioni e poi diventano conseguenze al collettivo. Poi per quanto riguarda la partita era ancora più complicata perché dopo l'1-0 è vero, ma giocare 75 minuti in 10 contro 11 era assai difficile. L'abbiamo fatto secondo me molto bene, con grande lucidità, giocando a calcio bene, con i tempi in modi giusti, rinunciando magari a un attaccante, però facendolo bene. Io sto qui per lavorare e sto qui adesso in questo momento perché di nuovo ci metto la faccia. Perché oggi addirittura con una squadra in 10, anche se una buonissima squadra con giocatori veramente forti, siamo stati umiliati. Quindi io credo che alla fine è colpa dell'allenatore e basta. Non c'è niente da dire. È giusto che la gente si comporti in questo modo, è giusto prendere in questo momento qualche rimprovero, qualche insulto. Una buona squadra come la Vispesa lo rimane in 10, tu devi fare assolutamente qualcosa di più. e invece noi abbiamo fatto qualcosa di meno. Ma il fatto è che poi, per quanta attenzione ci vuoi mettere, dopo quattro minuti vai sotto di un gol, perché abbiamo sbagliato tre scalate sulla parte sinistra, non una a tre. E da lì la partita diventa diversa, con loro che hanno grande palleggio e con noi che riandiamo nel tunnel. Credo che possono dirmi tutto tranne che non sono un uomo con dignità e la mia dignità non la tocca nessuno.